buongiorno a tutti ben ritrovati amici sul canale di leo channel oggi tratterò un tema che mi sta molto a cuore noi ci lamentiamo tanto del calcio moderno che insomma questo calcio di oggi senza bandiere un calcio non è più la stessa maniera come lo era una volta però nessuno si lamenta mai dei tifosi che non cambiano mai che sicuramente una volta lo erano pure come lo sono oggi ma oggi lo sono particolarmente maggiormente diciamo e che cosa male male io già mi sono fatto una mia personale idea mio personale c'è mi sto autocontrollando mi son detto basta io non scrollo più i commenti su youtube perché non se ne vuoi più sinceramente allora io vorrei fare riflettere su una cosa no se uno ti fa la propria squadra perché deve odiare l'altra squadra perché ci devo insultare a vicende io questa cosa non l'ho capito c'è come faccio un paio di esempi e come l'italia no diciamo l'italia è la nostra nazione noi ovviamente amiamo e ti e siamo per l'italia c'è in qualunque posto ci troviamo al mondo abbiamo un senso di appartenenza un orgoglio un orgoglio positivo di essere italiani mettiamo ora faccio l'esempio con la squadra di calcio noi siamo italiani giusto la nostra squadra di calcio mettiamo è l'italia devo dire per forza germania merda oppure francia merda india merda romania merda o quale quale nazione sia c'è se io amo il mio devo automaticamente odiare l'altro capite quello che vi voglio c'è devo sentirmi superiore un'altra nazione a livello umano diciamo no magari mi sento superiore al livello di storico di questo si può paragonare magari trofei oppure alla tifoseria calda che ciò elogiarsi di queste cose qua ma devo automaticamente discreditare l'altro oppure un ragionamento diciamo anche sulla famiglia io supporto la mia famiglia principalmente ma devo per forza dire che l'altra famiglia una merda c'è quest'ora per fare un po di esempi per far magari riflettere migliormente scusate il mio italiano quello che io voglio far capire no perché perché alla fine vedete questi ragionamenti anche con le nazioni alla fine siamo tutti esseri umani alla fine perché voglio fare l'esempio sul calcio alla fine siamo tutti tifosi tutti amiamo il calcio perché ci dobbiamo sfidare a vicenda non basta magari anche mi rivolgo anche ai tifosi che vanno proprio allo stadio in curva non basta elogiare la propria squadra incitare la propria squadra perché si deve andare oltre e offendere l'avversario c'è tutte le tifosere del mondo hanno specialmente quando c'è la rivale la sciarpa con contro la rivale no merda quelli perché devo dire io merda quelli io questo non l'ho mai capito perché non posso supportare e amare la mia propria squadra senza odiare le altre questo lo trovo anche nei commenti c'è non c'è rispetto per nessuna squadra si offende gratuitamente l'altro perché di un'altra squadra oppure anche questo ho notato specialmente spesso ragazzi questo ve lo dovete far dire da gente del sud no uno che ti fa magari il milano ti fa la juve è terrone però ti filmina c'è ma quante volte lo devo dire che ti fare la propria squadra va a cittifare una squadra e calcio non è politica va al di là cioè non mischiamo la politica e il calcio se io ti farò una squadra il milan non è che io vuol dire che sono per la lombardia alla fine io sono siciliano e amo di più la sicilia ma è ovvio ma la squadra di calcio è un'altra cosa cioè non riesco a capire perché ci deve essere tutto questo odio accadimento nel calcio non lo capisco non lo non sarebbe più bello la mia filosofia di supportare la propria squadra ma non di odiare l'altro perché non può arrivare questo nei stadi del calcio perché non può arrivare questo lo so che questo non è un problema solo in italia è un problema globale internazionale però sto vedendo che in italia è molto più più forte questa cosa qua lo noto perché io vivo in germania i tedeschi quando si parla di calcio si fanno dei sfotto però non vedo tutto questo accadimento come lo vedo in italia in italia c'è troppo odio fra le tifoserie anche lo vedi nei commenti se vai su youtube i i video cioè io sta cosa non veramente non riesco a capirla ragazzi non riesco a capirla cioè sarò un sognatore ma non è bella la mia idea cioè non sarebbe meglio così per tutti perché ci dobbiamo fare il fegato amaro c'è il calcio alla fine quando poi si parla che tanti pure in tanti lo dite il calcio ci deve unire il calcio è passione il calcio ci unisce che sono tutte delle cose vere e che in teoria così dovrebbe essere allora maggior ragione perché non portiamo rispetto per l'avversaria perché no invece quelli merda quelli merda quelli merda bastardi c'è solo la mia squadra no non è così non è così ragazzi perché poi vi dico un'altra cosa se ci sarebbe veramente solo la vostra squadra io tifo e tifo io sfido chiunque di voi che non guardi certe volte anche partite delle altre squadre ovviamente non c'è quella cosa come io sono milanista ovviamente nessuna squadra mi può dare l'emozione che mi dà il milan però mi guardo anche le altre partite questo capite lo sportivo prima di tutto e poi tifoso della mia squadra sfido chiunque di voi che non faccia così che non si guarda pure altre partite che ne so esempio ci sarà bayan real lo guarderete tutti quindi principalmente per far capire che dobbiamo tornare alle origini principalmente ci piace il calcio e il calcio deve essere unione e può anche significare che tu la tua squadra ovviamente la predileggi la preferisci ma non devi odiare le altre squadre veramente io sta cosa non riesco a concepirlo non riesco a concepirlo peccato che sia così peccato veramente non lo so non ho altre parole da dire ragazzi uno bisogna amare la propria squadra io amo il milan e poi però anche a simpatia posso avere anche altre squadre esempio a simpatia il napoli mi farebbe piacere come tante volte ripetuto che vince lo scudetto però rimango sempre milanista c'è la mia prima squadra il milan poi simpatizzo anche un po il napoli e se simpatizzo napoli non vuol dire che odio la juve non vuol dire che odio l'inter non vuol dire che odio le altre squadre capite il ragionamento quale c'è non lo so perché non si può vedere il calcio così non sarebbe più bello come lo sto spiegando adesso io se il calcio fosse veramente così che questo anche ora avevo dimenticato di dire in italia il calcio è proprio una guerra ho visto proprio è una guerra è assurdo il calcio non è guerra il calcio è passione è bellezza e questo dobbiamo fare del calcio non l'odio e io credo anche però devo dire pure che questo è perché guardiamo siamo troppo in italia specialmente c'è troppa informazione sul calcio troppo accanimento se ne parla troppo e così non piano piano sto capendo che la filosofia in germania non è tanto male c'è in germania magari se ne parla poco di calcio al di là del fine settimana mentre in italia se ne parla tutta la settimana diciamo che magari in germania se ne parla un po poco ma in italia troppo ci vuole ci vuole una media è un bilancio diciamo bilanciare le cose perché questa cosa credo di essere fortunato perché sono cresciuto in germania sono però italiano cioè i genitori italiani non di tutti italiani e ho potuto sempre confrontare le due culture io mi ritengo pur sempre un italiano amo l'italia però in tanti aspetti me ne accorgo come veramente diciamo posso prendere il meglio no certe cose magari la germania è troppo c'è il disquilibrio e io dato che conosco le due cerco sempre di portarle in equilibrio perché uno può prendere cose buone dalla cultura tedesca e cose buone dalla cultura italiana quindi ragazzi amiamo il calcio siamo c'è guardiamo il bello del calcio basta con questo essere anti odiare eccetera eccetera che non ci portano da nessuna parte noi alla fine tutti quanti amiamo il calcio va bene ragazzi per questo video è tutto mi raccomando riflettici almeno sarebbe bello se il calcio sarebbe visto in un'altra maniera va bene ragazzi per questo e non mi dite che il bello del calcio è questo che c'è lo scoglio che si odia no no non è il bello del calcio secondo me va bene ragazzi per questo video è tutto un caro saluto dal vostro leo grazie a tutti